Ciao a tutti, perché fai scappare tutti gli uomini? Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, per quale motivo fai scappare tutti gli uomini? Certo, gli uomini che fuggono, gli uomini che si allontano, gli amanti in fuga sono più affascinanti, ma perché tutti gli uomini scappano praticamente perennemente da te? Allora, ci sono diversi motivi da prendere in considerazione, intanto tutto dipende da te, più che da te come persona, come persona vai sicuramente bene, dipende dai tuoi comportamenti. Se un uomo scappa, probabilmente penserai, se sono più di uno quelli che scappano, che non vai bene, che sei uscita difettosa dalla fabbrica, che hai qualcosa che non va. Però poi invece, magari sei una bella donna, intelligente, femminile, e puoi avere tutte le carte, diciamo, in tavola da utilizzare come donna, come donna capace di farsi amare. Però magari metti in atto dei comportamenti sbagliati. Ad esempio, con un uomo che ha avuto un, diciamo, un vissuto, magari conflittuale con la madre, che vorrebbe avere una donna da proteggere, da acudire, tu fai tu la mammina che proteggi, che, diciamo, acudisci. Quindi devi tenere presente che da un punto di vista logico, emotivo, devi incarnare la persona giusta. Perché se non incarni la persona giusta, più che persona giusta, i comportamenti giusti ottieni dei risultati disastrosi. Se poi abbini a questo, che magari metti dei vincoli logici, senza avere già il potenziale, cosa sono i vincoli logici? I vincoli logici sono le, diciamo, i vincoli logici sono le condizioni che tu poni. Certo che fai scappare gli uomini. Perché se prima di aver acquisito il potenziale gli dice, no, ma io però voglio una relazione seria, se tu vuoi me, devi, che ne so, pensare che io voglio questo, voglio quello. Senza aver acquisito prima il potenziale, come voler spendere soldi senza aver acquisito prima la necessità, senza aver acquisito prima, ha caricato il bancomat a sufficienza, insomma. Quindi i vincoli logici e i comportamenti emotivi sbagliati sono quelli che, cioè i vincoli logici senza avere ancora il potenziale, che tendono a mettere in fuga un uomo. Invece tu devi cavalcare la tigra, andare ad amplificargli le sue emozioni e mettere i vincoli quando sai che possono essere accettati, quando è lui quasi a chiedertelo, è lui quasi che, diciamo, per paura di perderti, vuole far qualcosa nei tuoi confronti verso di te. Ecco, questo cambio di atteggiamento, soprattutto rivolto verso di te, è fondamentale. Poi ci sono donne che tendono a mettere in fuga gli uomini una volta che è iniziata la relazione, cioè dopo un po' di tempo tendono a metterli in fuga. Perché quando si sentono sicure, credono di essere sicure, di avere realizzato una relazione come si deve, cambiano comportamento, smettono di truccarsi, di essere femminili, iniziano a fare le appiccicose, iniziano a essere gelose, anche quando poi non c'è motivo, smettono di, come dire, mettere degli antagonisti, ma si zerbinano e trascurano anche un po' la sessualità fondamentalmente, cioè non generano fantasia. Ecco, tutto questo fa sì che, appunto, poi dopo un po' tenda a mettere in fuga, insomma. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram, Massimo Terramaschi, iscriviti al canale, e iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!